Meraviglia! Grazie a te! Grazie, grazie! Grazie a tutti! Si può venire tutti i giorni! Ma quando vuoi! Ti devi svegliare presto con noi! Beh, io mi attrezzo, mi sveglio presto, non vado a dormire tardi là! Sai cos'è Emilio? Qui non c'è soltanto l'ammirazione per l'attore. Tu dai da sempre l'impressione di essere una persona per bene. Questo la gente lo ha capito. E lo sa, perché si può mentire e recitare quanto vuoi. Ma poi, alla fine, tutto paga. Paga anche la gavetta infinita che tu hai fatto. Ma di la verità, ti guardi mai alle spalle da dove sei partito? No. No. Ma no, ma solo perché mi hanno insegnato a non guardarmi indietro. Perché le cose acquisite in qualche modo ti siedono. In qualche modo ti... Rischi di appiattirti. Sì, invece è decisamente più divertente. Anche ti incuriosisce di più il futuro. Il passato lo conosci. Ma anche i successi che hai avuto. Quelli che sono nel momento in cui sono, sono già stati. Senti, ma è quello che tu avevi immaginato sempre. Cioè ti incaponisci per fare una gavetta di piccoli teatri. Personaggi leggendari. Insomma, che adesso, grazie a Dio, si vedono anche su YouTube. Che ti devo raccontare? No. Quella è stata proprio la strada, la tua palestra. Sì, grazie. Io ho una fortuna, intanto di averlo scelto, questo lavoro. E in tanti non possono bantare questa fortuna. Tanti fanno dei lavori che non amano, ma a por di lavorare giustamente. Già è una fortuna lavorare. Io, oltre ad essere fortunato a lavorare, ho avuto la fortuna di scegliere questo lavoro. Per cui ho sempre avuto la fortuna di fare le cose che mi sono piaciute. Non mi sono, come dire, mai fermato. Non ho mai pensato, ecco, adesso devo fare questo perché questo confermerà, che ne so, un successo. Mi permetterà di rimanere qui o di fare... Io ho scelto spesso di pancia perché al tavolino questo è un lavoro che non si può fare. Però sono uno felice di essere in teatro anche quando sono in paesi sperduti nell'Italia. Perché questo proprio è il lavoro che ho voluto per me. Devo dire, è una delle poche cose di cui è gelosa mia moglie, veramente. Senti Emilio, ma è ancora un mondo nel quale si può scegliere. Io penso che tu sia una delle poche persone a cui lo possa chiedere. Perché sei sincero. O poi alla fine uno, certi sì li deve dire, certe presenze in certi film, perché c'è il regista famoso, le deve dare o meno? Dunque, ti dico una cosa che a volte mi è capitato di dire. Si è più liberi quando non si è così tanto noti. Perché poi alla fine, siccome il mercato, poi specialmente quello italiano, non è un grande mercato. Insomma, due camere e cucina sono, diciamo la verità. E' quello l'essenziale. Sì, quindi quando ti capita di fare una cosa che funziona, che ha mercato, si dice, mediamente tendono a riproporti sempre quella. Perché funziona. Se tu fai la commedia, ti chiedono di fare solamente la commedia. Se tu hai fortuna con un personaggio, ti chiedono di ripeterlo all'infinito. Cioè tu sai che Paolo di tutti i pazzi per amore è qualcosa che non si può dimenticare. E te lo diciamo noi che siamo in un'altra rete. Cioè renditi conto che poi c'è una quasi identificazione che rischia di schiacciare. Invece poi c'è sempre il momento in cui uno poi deve aprire quella porta e uscire. L'hai fatto anche tu? Sì, perché io sono dell'avviso che bisogna alzarsi da tavola con un po' di appetito. Ma sei un mito. No, ma... No. Perché in fondo quello fa poi la differenza. Sì, insomma, io penso che sia bello lasciare, perché il ricordo di una cosa bella è ancora più bello. Se io avessi continuato, avessimo fatto il 4, il 5, il 6, il 7, è inevitabile che poi la cosa... Sarebbe andata a scemare. Sì, sì. Ma insomma, adesso non lo dico io, lo dicono quelli che sono bravi a pensare e a scrivere, quelli come te, insomma, non è un caso che quelli che non ci sono più, i grandi... Marilyn Monroe rimarrà sempre bella, nessuno l'ha accompagnata verso la sua mecchiaia, per cui se tu sei il simbolo della bellezza lo rimani per tutto. A noi ce ne frega poco di restare così, meglio morire, tardi... No, sono d'accordo, però voglio dire, meglio cristallizzare un ricordo bello. Emilio, la bravura è fatta anche di incontri, cioè grandi registri che capiscono che al di là del cabaret che tu hai regalato per anni, al di là della tua sensibilità, insomma, c'era una stoffa di attore grandiosa. C'è qualcuno con il quale ancora vorresti misurarti? Io ho un regista in testa, ma te lo dico dopo. Ma italiano? Sì, vola alto, l'appetito ce l'hai, me l'hai insegnato tu, e vai forza, mangiamo. Allora Scorsese, allora... Ma Martin, non solo, ma io sono il tipo giusto per lui, io sono l'attore perfetto per Martin Scorsese. Ma guarda lui che ci vede tutti i giorni, indifferita, vero Martin? Ma io ce l'ho voluto chiamare per nome, ho detto Martin. Martin, abbi pazienza, che scegli sempre De Niro. De Niro ha fatto i capelli bianchi a me, io ancora... E a G, e a G lui. E a G, e a G, e a G, e a G, io sto pensando a te anche con Pupi Avati. Sappilo, sappilo. Guarda che ne portiamo bene. Io adoro Pupi, ho fatto un film meraviglioso con la coppia Antonio e Pupi Avati. Cioè, devi ritornare perché quello ti strappa l'anima drammatica. Ma perché non me la strappi? Sono freddo. Antonio, io ti aspetto, aspetto che me la strappi. Anche perché quando ti vedrà a teatro, dove noi tra poco vi porteremo, capirete davvero perché c'hai mille maschere, Solfrizzi. Quando sei stato fino a... Pubblicità, poi tornare. Emilio Solfrizzi, grazie di essere rimasto con noi. È scappato durante la pubblicità di raccontare i tempi di Toti e Tata, i tempi delle parodie che sono qualcosa che rimarrà negli astori. Vi prego, andatevele a vedere su YouTube perché c'è da morire e da ridere. Quando giovani attori, tra quelli c'era anche uno che si chiamava Checco Zalone, non so se mi spiego. Era bambino però. Appena nato. Questo per dire, si crede nel proprio talento. Come dire, si crede in un sogno. Perché Emilio, tu non sei figlio d'arte. Questo non abbiamo detto. A te com'è? Un giorno vai da papà e da mamma e dici, papà, mamma, io voglio fare questo. No, 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 no. Ma tu hai detto una cosa meravigliosa prima che tanto della tua vita dipende dagli incontri. Sì. Io ho avuto la fortuna di frequentare un liceo, una classe meravigliosa, che sono i miei amici di oggi. Tuttora. Tra questi c'è sempre stata una persona che per me è stata un faro, diciamo, della mia vita, con la quale ho condiviso tantissime scelte. Si chiama Antonio Stornagliolo. Grandissimo, tra l'altro. Lui era il capopopolo. Lui era un capopopolo di questa classe. Insomma, io ho frequentato una scuola che aveva la fortuna di avere, oltre alla palestra, un teatro e i professori ci spingevano a frequentarlo, questo teatro, perché il teatro è il luogo dello scambio di idee, dello scambio, insomma, della conoscenza. Ci si poteva incontrare con tutte le altre classi. Noi abbiamo in più subito capito che stando su un palco attiravamo molto di quel pubblico che ci interessava molto, che aveva i capelli lunghi, quelle forme che a scuola, voglio dire, ci interessava. E allora... E perché era l'attore, capito? Ma no, abbiamo... Lì abbiamo capito, facevamo il liceo classico, un'altra classe aveva messo in scena uno spettacolo su Virgilio, insomma, era veramente un mondo affascinante e dopo quello abbiamo... Dopo la scuola abbiamo capito che era una cosa che ci piaceva. Ecco, i miei genitori, se tu sei di Bari, andare a casa e dire papà vorrei fare l'attore... Non è proprio una cosa, capito? Cioè, mio padre ha cercato dei luoghi bui della casa dove mettersi, dove rifugiarsi per non incontrare amici e parenti e doverlo dire. Un pezzerillo di scuorno! Sì, lo scuorno ha riguardato la famiglia per anni, io proprio per anni, io mi ricordo mio figlio lavora fuori! Mia madre diceva a mio zio, adesso, insomma, era meraviglioso, ma Emilio che fa? No, si sta per laurearsi in giurisprudenza, in giurisprudenza, ma si dice che faccia l'attore? No! No, 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 so come... La sera, come tutti gli altri ragazzi... Si diventa! Però invece, invece, devo dire... Sono contenti adesso, hanno capito, c'è la felicità dentro la famiglia. Quando arriva poi il talento vero, quando si riconosce meglio il talento, poi dopo anche i genitori stanno... Sì, ma infatti io sono molto grato a loro, loro adesso non ci sono più e mi è dispiaciuto molto che loro non abbiano, non mi siano stati accanto in tutto questo tempo, però devo dire che sono molto grato a loro perché loro mi hanno fatto capire una cosa, loro non hanno accettato passivamente una scelta, no, loro se ne sono fatti carico perché avevano talmente tanta fiducia e stima di questo ragazzo che per loro non poteva essere una scelta di comodo, per cui si sono impegnate a capire le ragioni profonde di questa scelta. Anche perché Emilio, al solo guardarti a teatro oggi, Ambra Iovinelli a testa in giù, Ambra Iovinelli a Roma è il tempio di un teatro apparentemente logero, ma sappiate che questa è una prova d'attore straordinaria. Ci siamo andati con Simone Nestori e Gian Piero Pisanello con una compagna di viaggio eccezionale. Straordinaria. Guardate qui chi è, non ve lo dico nemmeno, guarda qui che abbiamo combinato. Il mio personaggio è quello di Emma, una giovane donna, non ancora trentenne, la fidanzata di Patrick, il quale ha lasciato sua moglie perché si è innamorato di lei. Patrick è un uomo più o meno della mia età che dopo un matrimonio apparentemente felice di 25 anni o giù di lì perde la testa per una ragazza di 30 anni e va via. Le tolgo il coniglio, se la sente di privarsene? Ma sì, perché no? Interpreto Isabel, Isabel è una insegnante di storia dell'università, una donna realizzata, una persona felice, realizzata nel progetto familiare. Diciamo che questa cena in cui loro invitano, cioè Isabel e Daniele invitano a casa il loro amico Patrick che si è lasciato con Laurence, miglior amica mia, per mettersi con una ragazza più giovane, crea lo scompiglio e la crisi. Posso offrirle da bere? Sì, volentieri. Ci sei anche tu. È divertente stare in scena con loro perché loro sono anche imprevedibili nonostante siano perfettamente rispettosi del testo, poi in scena ovviamente ogni sera possono accadere delle cose, sono dei comici, degli attori straordinari. La carta vincente è la comicità assolutamente dello spettacolo, il fatto che i personaggi non recitino soltanto, ma recitino anche i pensieri e ovviamente fa ridere. Va bene adesso, magari non è il momento adatto per affrontare un argomento del genere, d'altronde non c'è nessuna fretta, glielo posso dire in qualsiasi altro momento della giornata, glielo dico. Il pubblico è l'unico che sa come stanno davvero le cose, questo crea un'empatia, un impatto fortissimo. In più il tema della crisi esistenziale, la crisi di mezz'età, la crisi borghese, l'amicizia, questi temi qui sono molto contemporanei. Caccia vado io? No, ti sono la crisi. Ti ho detto che vado io? Tu rimani pure con i nostri ospiti, io torno subito, vado a darmi una calmata. È uno spettacolo sulle amicizie che sembrano profonde, invece in realtà sono formali. Questo è davvero uno spettacolo. Vabbè, c'era una chiusura, vi chiedo perdono, strano, mi dispiace tanto, uno spettacolo che poi Paola chiudeva dicendo, fosse sole che ci sono io, dovete già venire. Allora, vi dico una cosa, regia di Joelle Dix tra l'altro, lo dico a casa perché sembra... Ha vissuto una serata, ecco, non solo vacua. È anche uno scavare dentro la vita di coppia, perché insomma, un matrimonio apparentemente felice, poi all'improvviso, come si dice da una parte, insomma, l'attrazione per qualcosa di nuovo, dall'altra invece tua moglie Paola, sulla scena che ha un ruolo determinante anche nel governare quei pensieri. Una volta mi hanno detto una cosa, quando da piccolo, se a te da piccolo piace sia la cioccolata che la crema, a un certo punto uno ti dice, però devi scegliere, a te ti piacciono entrambe, magari tu decidi di scegliere il cioccolato, però la crema non smette di piacerti, però tutta la vita tu ti mangi la cioccolata, capito? C'è la fatica e rinnovare ogni volta, ogni giorno, capito? Tu devi decidere di scegliere la cioccolata perché la crema è meglio non... E' meglio lasciarla da parte, anche perché la cioccolata è più avvolgente, ma poi vuoi mettere la confidenza, l'alchimia che si crea dopo un po' di tempo, se è mio. Infatti questa è una coppia, però, scusami, questa è una coppia che ha consolidato negli anni la sua relazione, quindi è una coppia che ha basato, ha costruito il suo avvenire, diciamo, sulla stima, sulla complicità, oltre che su tutto il resto, ovviamente. Però è bello che due persone coltivino il dubbio, alla fine per potersi riscegliere, perché una scelta prioristica non porta da nessuna parte. Ci vediamo alle nozze a 75 anni di matrimonio. A me Paola piace, proprio si sa, voglio dire, quindi il nostro matrimonio artistico che duri tanto. Emilio, sei solo una conferma, sei una bellissima anima, all'Ambra Iodinelli, a testa in giù, fino al primo dicembre. Fino al primo dicembre. Grazie di essere stata con noi. Grazie. Grazie. Che bella, grazie. Ci vediamo domattina. Grazie. Di cuore. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te.